Buongiorno ragazzi, in questa seconda video lezione sull'illuminismo analizziamo un aspetto specifico di questo movimento filosofico-culturale, cioè il rapporto degli illuministi con la storia, poiché nell'affrontare la storia gli illuministi, l'illuminismo, in qualche modo può essere definito come bifronte, poiché alterna una posizione pessimistica a un'ottimistica, poiché nel momento in cui si rivolge al passato, quindi alla cosiddetta ruggine dei secoli, ecco che abbiamo in qualche modo una forma di pessimismo. Quando invece l'illuminismo si rapporta al presente e al futuro, abbiamo una forma ottimistica in virtù di questa nuova umanità plasmata dai lumi. Andando con ordine, quindi, nel momento in cui gli illuministi rivolgevano il proprio sguardo al passato, vedevano nella storia un teatro dell'irrazionale, fatto di ignoranze, di superstizioni, di violenze, di patimenti, di ogni sorta, ragion per cui si opponevano alla visione provvidenzialistica della storia che era invece, che caratterizzava invece i secoli precedenti. Partendo invece da un'amara constatazione che sarà propria di Voltaire, autore che poi spiegheremo in seguito, che proponeva una visione negativa, ipercritica nei confronti del passato, muovendo contro questa ruggine dei secoli, espressione questa di Cesare Beccaria, un vero e proprio processo alla storia. Quindi una forma di pessimismo storico molto forte che affondava le sue radici nell'atteggiamento anti-medievale tipico dell'illuminismo, poiché, sebbene in maniera immotivata, gli illuministi, Voltaire in particolare, vedono nel Medioevo l'età della barbarie per eccellenza, l'età della superstizione, dell'oscurantismo simbolo della storia dell'umanità. In realtà poi il Medioevo è diventato effettivamente per gli illuministi un capro espiatorio, un idolo polemico che in qualche modo riassumesse tutti gli oscurantismi, ragion per cui a livello storiografico l'illuminismo ha proposto una visione del Medioevo che effettivamente era alquanto distorta e che verrà superata poi nel romanticismo. Un elemento però tipico di questa visione pessimistica della storia lo abbiamo quando nella contrapposizione tra uomo naturale e uomo artificiale autori come in particolare Rousseau propongono una forma di idoleggiamento di una felicità che l'uomo aveva nella sua fase primitiva, preistorica, proponendo il cosiddetto mito del buon selvaggio che affermava che quindi l'uomo nell'età iniziale della sua storia sarebbe stato più felice e che poi in virtù del processo di incivilimento sarebbe decaduto. Considerate una cosa, uno dei motivi che hanno portato a quest'idea è di natura storica, cioè l'impulso che il Settecento ha dato alle esplorazioni di molte aree del Pacifico che avevano portato a scoprire in diversi arcipelaghi del Pacifico delle società che vivevano ancora in maniera primitiva secondo gli esploratori, ma che si notò sembravano essere più felici rispetto ai cittadini europei. Questo fece nascere appunto quest'idea del buon selvaggio che poi troverà delle paradigmatiche espressioni a livello letterario, ad esempio nel Robinson Crusoe di Daniel Defoe o in ambito filosofico nelle opere appunto di Rousseau che analizzeremo in seguito. Quindi abbiamo una critica a questa idea che civiltà è sinonimo di progresso, almeno per il filone pessimista dell'illuminismo. Oltretutto occorre ricordare l'antitradizionalismo tipico di tutto l'illuminismo, poiché secondo l'illuminismo antichità non è contrassegno di verità. Cadeva quindi il principio dell'autoritas tipico non solo del medioevo ma anche della prima età moderna, che porta in qualche modo tutti gli illuministi a scagliarsi appunto contro ogni forma di tradizione consolidata. Oltretutto autori come Voltaire, in ogni caso per quanto avessero una visione pessimistica della storia esaltano comunque alcuni momenti, alcune età felici, come le definiva lui, della storia. Per esempio Voltaire parla dell'età di Pericle, di Cesare, di Augusto, il rinascimento italiano, la stessa età di Luigi XIV, come di alcune età felici. Per quanto riguarda invece l'altro filone, quello ottimista, notiamo come invece nel rapporto non più al passato ma al presente e al futuro, l'illuminismo si ponga in maniera più positiva, poiché c'è un atto di fiducia nei confronti della ragione che porta diversi illuministi, in particolare Condorcet ad esempio, a vedere nella storia dell'umanità un riscatto rispetto al passato e quindi un graduale processo di incivilimento che porterà l'uomo a progredire non solo a livello umano ma anche a livello tecnico-scientifico. Quindi abbiamo una fortissima connessione nell'illuminismo tra ragione e civiltà, tanto che uno dei grandi simboli ideali dell'illuminismo, almeno di questo fronte dell'illuminismo, è il concetto di progresso che, come vi ho appena detto, trova una paradigmatica espressione in Condorcet. Legato a questo non stupisce quindi il forte attivismo proposto dagli illuministi e portato avanti da diversi illuministi, nonché il simbolo stesso di questa idea che è incarnata proprio dall'enciclopedia, di cui abbiamo parlato nella precedente videolezione. Questo rapporto con la storia trova nell'illuminismo anche un'esigenza nuova, cioè quella di un'indagine storica fondata, cioè per la prima volta rispetto al Medioevo che era privo invece del senso di distanza storica, l'esigenza di porre un vaglio critico delle testimonianze tramandate. Quest'idea, noi sappiamo, era già stata proposta inizialmente dal Rinascimento e quindi da quella nuova disciplina che era la filologia classica, ma in ambito storico questo processo trova un passo in avanti nell'illuminismo, che quindi costituisce un primo vero grande passo verso la storiografia contemporanea, che vedrà il suo sviluppo nel romanticismo, troverà un ulteriore punto di svolta. Quindi con l'illuminismo abbiamo un ampliamento della prospettiva storica, poiché la storia per gli illuministi non è vista soltanto come una successione di sovrani, una successione di battaglie, ma si intende la storia nel quadro di una storia universale del cammino della civiltà verso il progresso e quindi gli illuministi analizzano a livello storico non soltanto appunto sovrani e battaglie, ma anche la vita economica, il progresso scientifico e tecnico, la cultura letteraria, artistica e filosofica. Quindi si comincia finalmente ad analizzare la storia in tutti i suoi aspetti. Concludo questa seconda e ultima videolezione sull'illuminismo dando un bilancio teorico di questo movimento, poiché il movimento dell'illuminismo, specie nel suo aspetto politico, presenta una serie di contraddizioni, due in particolare, come in realtà poi tutti i movimenti estremamente compositi simili, poiché occorre ricordare sempre una cosa. Ancora oggi quando si parla storiograficamente di illuminismo si tende a parlare più che altro di illuminismi, poiché ha avuto questo movimento una diversa declinazione nei vari stati o addirittura negli stessi stati in cui si è presentato ha avuto anche autori che hanno presentato delle idee estremamente diverse tra di loro. È un esempio fra tutti. È la Francia, poiché Rousseau presenta delle idee filosofiche completamente diverse rispetto ad altri autori francesi. Ritornando a queste contraddizioni dell'illuminismo, noi troviamo una doppia antitesi, poiché abbiamo il carattere tendenzialmente radicale degli ideali dell'illuminismo, ma poi una concreta espressione moderata da parte in particolare degli enciclopedisti. Altro elemento di contraddizione, di antitesi è il valore potenzialmente universale degli ideali proposti dall'illuminismo, ma una loro interpretazione e attuazione che poi in realtà è in chiave strettamente borghese. Ora occorre, per poter comprendere bene l'illuminismo, dover tenere sempre insieme questi due aspetti. Non è possibile interpretare in senso unilaterale l'illuminismo, quindi dando all'illuminismo una portata necessariamente radicale e universale senza tener conto invece di questi aspetti, come per esempio il legame con la borghesia. Poiché l'illuminismo è strettamente legato alla borghesia su interessi economici e politici, tanto che dopo la rivoluzione francese è nota la battuta di Marx, che poi sarà ripresa successivamente da Sartre, il quale affermava che l'uomo era il borghese e il borghese era l'uomo, quindi una connessione strettissima tra illuminismo e borghesia. Dall'altro però non bisogna dimenticare la portata tendenzialmente universale e radicale dei grandi ideali dell'illuminismo, come per esempio l'uguaglianza, la libertà di pensiero, la libertà di critica, l'imperativo della tolleranza. Tutti elementi che si iscrivono in un processo storico che porterà poi all'avvento della civiltà liberale, democratica, moderna, per cui quella stessa validità andrà poi a beneficio non soltanto della classe borghese e quindi non solo di un gruppo particolare ma di tutta l'umanità.